Sette errori da eliminare, sono sempre sette, non so perché, sette perché resta il numero, capito? 97, 47, le sette strade per il successo. Allora stiamo anche noi sui sette, sette errori da togliere subito per migliorare all'istante la tua presenza su Facebook. Sigla, signori signori. Errore numero uno, se usi un profilo al posto di una pagina. Se hai un business, se sei un'azienda o un professionista, è la pagina il posto giusto da usare su Facebook. Puoi usare la pubblicità, puoi usare le tue promozioni, è il posto che Facebook ti dice, guarda, usa sta roba qua per fare business. Errore numero due è elemosinare i like o le occhiate. Ma sapete quante volte a me scrivono dicendo, oh Monti appena hai tempo, metti un like a questa pagina qua, grazie. Ma grazie cosa, grazie cosa? Non è che costruisci una presenza seria così. L'elemosina lasciamola a qualcun altro. Errore numero tre, l'abbiamo detto tante volte, pensare che Facebook sia gratuito. Facebook non è gratuito, è gratuito per giocare. Ma se vuoi fare una cosa seria, ci devi mettere del grano usando i loro strumenti promozionali. Uno strumento che segnalo in questo momento, non ho nulla a che fare con loro, ma sono bravi, e peraltro il founder è italiano, quindi complimenti, è AdEspresso, che hanno fatto anche una bella exit, e ti danno la possibilità di fare test AB di varie pubblicità, e ti danno un sacco di aiuti se devi sponsorizzare. Errore numero quattro è quello di copiare gli altri. Copiare è inutile, imitare è necessario, bleh bleh bleh. Copiare smaccatamente il format di un'altra persona o di un'altra azienda è sempre controproducente. Devi trovare una tua strada, diversa, unica, rischiosa. Magari all'inizio non piacerà, però cerchi di trovare la tua identità. Un concetto importante, alcune persone sono brave in video, altre sono brave a scrivere, altre sono brave a fare delle foto. Fatti un esame di coscienza sincero e cerca di capire tu, la tua squadra, la tua azienda, dove siete più bravi, e spingi su quella roba alimentata, uno schieno in un occhio. Errore numero cinque è forse il più diffuso. Ti concentri a parlare di te e non a parlare di loro, di quelli che ti ascoltano, di quelli che ti guardano, di quelli che ti leggono. Proverbio strausato di marketing lo sai qual è, che alle persone non interessa la tua storia. Alle persone interessa la loro storia. Quando parli pensa a loro. Che cosa gli torna utile a loro? Qual è il vantaggio e il beneficio per loro? Numero sei, la mancanza di consistenza e di continuità. Non puoi pensare di postare una volta al mese e avere dei risultati. È un continuo lavorare in interrotto, per un sacco di tempo, ogni giorno, duramente, prima o poi, forse, speriamo, arriverà a qualche risultato. Il settimo errore, ce ne sarebbero 740 ma ci fermiamo a 7, è confondere un contenuto che porta a traffico con un contenuto che invece converte le persone in fan della tua pagina, o in iscritti alla tua newsletter o qualche. Morale della favola, come diceva il sommo Iggy Pop, e prima di lui probabilmente miliardi di altre persone, ma prendiamo Iggy che ci piace di più chiudere con lui, non conta soltanto sapere quello che devi fare. È altrettanto fondamentale sapere quello che non devi assolutamente fare. fare.